La rapitrice ha mandato una sua foto ad Alex, così lui dice e io gli credo, perché Alex non dice bugie, quello è strecato, strecato è un mentiroso, ma Alex no. Allora ragazzi, passiamo a cose serie, le mie cose serie, hanno detto sì al 90%, ti crediamo allora, va bene, allora dimmi dov'è questa foto, fammela vedere. Non ti dico niente, perché voglio un tornaconto, schifoso, un infame, va bene, che cosa vuoi? Vuoi sapere cosa voglio? Te l'ho appena chiesto, io voglio andare a fare un giro nel pisto, che schifo, ma cosa hai bisogni, aiurenze, ci dobbiamo svagare un po' tutti, lo vogliamo tutto. Ma solo lui lo vuole, guardalo! Vabbè, allora lo voglio tutto, dai andiamo al pisto, vuoi andare al pisto, in cambio di questa informazione vuoi fare un cino al pisto? Sì, completo eh. È tutto, i servizi. Ah vuole un pacchetto completo? Allora effettivamente, devo prendere la campanella perché oggi mi sembrate ingriccati eh, tu Giorgia devi stare zitta, allora, no non stai zitta, poi non parli per 20 minuti, mi tocca abbatterti eh, allora, come dicevamo? Ehm, non ho, non mi ricordo più, vuoi andare al pisto, al pisto di Giorgia? Tutto il pisto voglio fare, tutto. Giorgia ma è soddisfacente questo pisto, cioè, ma noi non l'abbiamo mai visitato? No, mai visitato, mai visitato. Non sarebbe meglio visitarlo? Ok, beh, dovremmo andare. Vabbè, lo proviamo adesso. Oh, non voglio sentire però storie eh, ci vai, te lo fai andare bene però eh. Sì, sì. Eccomi qua, per favore posso arrivare veloce, così col pensiero? Puff! Ah, ci sono anche due piani, tre piani, perché c'è anche la piscina sotto. E' una delle cose abbastanza in grande. La piscina? Ho una domanda da fare prima di scendere, c'è anche una zona friendly per persone come me? La piscina? La piscina, a meno che non sia di sgabirro, può essere però eh. No, quella no! Allora, Giorgia, da dove mi consigli di iniziare? Io inizierei dal basso. Quindi alla piscina? Dal basso. Dalla piscina. E allora non è... Non so che volevo vedere. Vabbè. In questi giorni di caldo è molto bello andare in piscina. E' giusto perché uno che entra si deve lavare, dopo una lunga giornata ci vuole del riposo. Con queste spinte ti sentirai rinascere. Eh, tutto. Ti voglio far spingere. Eh, no, no, si fa tutto da sé, là ce la leva. Vai, vai, pistonati. Sì, divertiti. Oh, anche le bollicine. E ora, guarda come ribolle. Mamma mia! Però, però! Porca vacca! E per un po' di schiuma in più? Di nuovo! Mi invoglia questo pistone. Le provarono! Le bolle! No, no, grazie. Oggi... E lo riprovo di nuovo. Mi astengo. Anche perché abbiamo tante attrazioni. Oh! Ascolta, allora, lo fai di nuovo. Lo fai di nuovo. Con le tue dita, tozze e rubiconde. Io, tua madre, la prendo. No. E te la mando in un altro stato. Non la vedi più. C'è anche un piano di sopra. C'è anche un piano di sopra. Ma quello... Eh, sì, che c'è? Hai avuto abbastanza godimento. Adesso è arrivato il momento di parlare. Quindi fuori. Canta, uccellino. No. Vuoi vedere che ti banno? Uno ha visto? Vuoi vedere che ti banno? Vabbè, no, no, no. Guarda che sopra c'è la parte più bella e se non parli non la vedi. Non la vedrai mai. Ti verrai bannata. Parla. Parla. Ma mi ha messo la zucca in testa. E te la tieni pure, parla. Va bene, io potrei aver fatto un bel posticino. Ok. Con la foto sua. Ah. Ok. Quindi vedremo la foto. Allora... Ho descritto la foto, no? Come... Stai zitto perché tua madre t'ha fatto veramente male. Ma male, eh. Ma diglielo. Tu glielo devi dire, le devi andare vicino, le devi dire ma... Ma perché sono venuto così? Hai fatto male. Ma hai fatto male. Eri un po' distratta quel giorno. E lei risponderà, guarda che hai fatto più male tua madre. Ah, no. Povera donna. Quando sei nato è stata una catastrofe praticamente. L'arrivo delle locuste. Allora, siccome sei così idiota, portaci in questo posto e stai zitto perché fai meglio. Vai. Seguitemi allora. In silenzio andiamo di qua. Il brutto di prima. Magari per favore seguitemi. Ma io guarda, io inizio a non credere. Ma poi è ancora zuccato. Cioè, come fai, tu non sei a fare... Ma neanche può volerci credere. Sei brutto e sei stupido pure. Come fai a averla sedotta per farti mandare una foto? Io non ci credo. E vieni, vieni, vedrai con gli occhi tuoi. La Rappi mi ha preso in giro davanti a tutti. È vero, eh. E so che l'avete visto tutti. Io non parlo così. Sì, è uguale, eh. È uguale. Mi avete deriso? Mi avete deriso? Sì, zitto, Alex. Ma ora è arrivato il mio momento. No, è peggio, eh. Ma ora è arrivato il mio di momento. Non faccio così. Perché pure è sgrammaticato, oltre che è difficile da ascoltare. Continuo. Quella è normale. È arrivata l'ora della mia vendetta. Vendetta vera. Vendetta vera. Pagina 3. Io ho mandato le mie cose. Foto. Ma non sono stato l'unico. Arca miseria. Anche ho una sua foto. Ah, 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 ah. No, la razza. Alex ride lo sguido, è così. Ah, ah, ah. È vero. Non è uguale sei. È vero. Ok. Che fai a saperlo? Passo con te più te. Ma quello è un pisello? No. Ah. Ma Alex. Guarda prima le cose. Non è quello che pensi. È un Pokémon. Eh. Giorgia, stai zimassando la caffona. Oh, è un torso. Vieni. Vabbè, faccio io questo, dai. Preparati alla dura verità. Non mi tratterrò. Ma venga, sono una strega. Hai detto tanto di me. Senza maglietta e tu avevi solo uno straccio zozza. Dai, adesso noi dovremmo chiedere. Dove dovremmo credere che la rapitrice ti ha fatto una foto dove era pure poco vestita? Guarda, c'è la foto qua. Comunque siamo tutti maggioreni. Anche la rapitrice è maggiore. Non facciamo questione. Pure tutto strappato quella maglietta. Devi fare qualche disegno, secondo me. Hai una bella pelle. Tutta liscia. Però hai le unghie brutte. Allora, è un casino. Non so come era messa. Dimmi com'era messa, almeno. Così posso... Era tipo... Così. E cosa vuol dire? Di spalle. Sai come si fa? Tipo la foto dall'alto, no? Ho capito. Ma chi è che sta latrando? Io! Perché hai lasciato... Scusa. Oh, cosa c'è? No, leggo le cose e mi fanno ridere. La farò un po' più piccola questa cosa, così. Sta meglio. Vedi come è il disegno? È di fronte. Vedi come è il disegno? La stessa è addormentato? No, no, ci sono. Stavo... Stavo fascinando. Vedi che... E leggi le cose e fa ridere. Un po'... Aiuto. Scusa. Scusa, scusa. Ammirerò la tua opera d'arte. Sono pronta. Quindi devo fare una magletta. Una magletta? Una ragazza. E l'ha chiamata Straccio. Lo sai fare bene. Ma aspetta, adesso sono confuso di nuovo. Un attimo, ora prende spiede. Picasso! Potrebbe essere venibile sta roba, eh. Lasciate so. Diciamo che la foto è un po' distante dalla realtà. Stai zitto? Che poi i dettagli vanno tutti dopo. Giusto, è vero, è vero. Allora, io rimango risticente da credere che lei ti ha mandato una foto. No, no, adesso mi crederai. In chat suggeriscono facciamo due forconi al posto delle unghie. Quindi praticamente questo dovrebbe essere una sorta di disegno. Vedi, la foto è di fronte, vedi com'è. La mia è meglio però, eh. Che collo lungo! È molto meglio la tua, guardala qua! C'è un dettaglio rosa che manca qui. Dicono la Befana da giovane. Ok. Questa parte che cosa... Questa è l'unghia. Questa è l'unghia, esatto. Vedi, è malnutrita. Andiamo avanti, ok? Sì, esatto. Leggi il tuo libro. Ho paura. Leggi tu però, eh. Lo sai che il grigio ti sta male. Ok, quindi, va bene. Noi le faremo i pantaloni grigi, invece. Va bene, va bene, va bene. Fallo come vuoi tu. E poi vediamo chi ha ragione. Mi sa che c'ha da ridire pure sui pantaloni, eh. Vabbè. Hai detto tanto di me che ho usato un filtro, ma pure tu lo hai usato. Poi che il filtro brutto mette croci e scritte strane su tutta la foto. Oddio mio! Ma che inquietante! Croci e scritte. Ma tipo... Cioè, cos'è? Un filtro stranissimo che copre tutto? Ma tipo... Quei filtri che mettono le scritte! Ho capito. Che scritte... Vabbè, le scritte generiche. Ah, quelle da Chikamala! Eh. Ok, tipo una roba così. Tutta la... Beh, c'ha scritto tipo tutto love love. Sei zitto. Un po' di Chikamala, Chikamala. Oh, ma sai che stava diventando veramente stilosa? Love. Ah, lui aveva pure dei dubbi sulla tua capacità. Eh, stre, fai proprio schifo. No, non è vero. Ho sempre detto che era molto bello. Anche quelle carattine volanti. Ma cos'è quel simbolo là? Quel simbolo non c'era. Però vabbè, dai. Io ho mandato... La prossima volta ti do la mia vecchia tavoletta grafica. Un bacino e tu mi hai fatto le scene. Tu stai letteralmente mangiando una banana. Cioè, lei ti ha mandato una foto dove lei sta mangiando una banana. Mangia una banana intera. Non un pezzo di banana. Che significa? Ma dai! Ma perché voleva proprio puntualizzare? No, no, no. Aspetta, aspetta. Allora, sta cosa la devo capire. Tu perché la banana come la mangi? No, vabbè. La taglia a fettine? Ma vabbè, ma non ti fai le foto mentre mangi una banana però, eh? A prescindere. A prescindere. Però il fatto che abbia fatto notare che era una banana intera. Eh no, vabbè, però... Magari risalta la foto. È strano. Cioè, chi è che si mangia una banana intera? Beh, lui ha mandato una foto con la tavola... Con la scrivania che impareva una tavola del giorno del Capodanno. Ho capito, ma quello è diverso perché io... Nel anno scorso! Non è vero, no, no. Ma perché qui non fa bene? Perché c'è un buchino, mi sa. Ma non è vero. Eh, ma se... Non c'è, per forza, perché... Guarda bene. Eh, allora io la correndo. Ripassa tutto! Per non parlare della lingua fuori... Come è possibile? Ma come vuoi ammazzarla? Cioè, qua, come scusa, ma che foto... Ma guarda, ma sei sicuro che mi stai dicendo la verità? Dai, che questo è così! Laio, il fine di me... Allora, io me la sto immaginando, ma siccome tu l'hai disegnata in fasi diverse, non capisci... La... Capito. Sì, ho disegnato... Hai visto, Stree? Ma come è possibile? Ma come è possibile che... Ah, vabbè. Questa cosa è una lucertola! Wow! Sono d'accordo con Alex, inappropriata. Inappropriata. Capino, eh, effettivamente. Ah, sei bionda! Interessante! La rapitrice è bionda. Beh, è bionda. È raro il colore. Per fare i capelli bionda. Per fare i capelli biondo, eh. Vabbè. Questo è un... Per i capelli gialli. Non è proprio giallo bello, ma va bene. A me non piacciono le bionde che giocano con i sentimenti altro. Che c'entra? Potevano essere di qualsiasi colore di capelli, no? Però, vabbè. Non vuol dire niente. Lei ha giocato con i miei sentimenti. Poi quei capelli così lucenti. Ah, quindi unti, possiamo dire. Possiamo dire anche così, sì. Ma tu se li hai lavati? Ma che schifo! Tutti sporchi! Ecco qui. Bah, allora. In realtà, come è scritto, sembra che siano dei capelli molto curati e lui ci ha va da dire. No, no. So unti, perché riflettono la luce. Ti accecano quasi. Sono inguardabili. Ogni volta che li guardavo, piangevo. Quindi, tu piangevi perché... Perché sono inguardabili? Non è vero. Tu piangevi perché li desideravi. No, è vero. Guarda che hai uscito l'ombelico, eh. Secondo me non te lo lavi, ma... Ma che schifo, ma cosa... Ma che schifo! Ma poi ce l'esevo, questo! Vabbè, facciamo... Era un mio pensiero, eh. L'ombelico. Ok. Questo è te che piangevi guardando i suoi miei capelli. Io che guardo quando... Esatto. E quelle sono le crocette. E questo è l'ombelico. Che schifo, è una pizza. Che schifo! È l'ombelico. È una fumante! Che schifo! E non puoi guardare questo in live. Ok, qui dentro c'è addirittura il link vero e proprio per vedere visualizzare. Quello vero, ovviamente. Così vedrai la prova! Ok, allora io adesso ragazzi tolgo un attimo la live e vedrò questo link per visualizzare. Visualizziamo. Oh, ma anche a noi, eh. Noi siamo curiosi! Ma infatti di brutto! No, ragazzi, è troppo anche per Alex questo. No, che cos'è? Non cliccare. Prima posso dirti una cosa. In chat hanno scritto, secondo me la rapitrice ha cercato ragazza bella che mangia una banana e l'ha mandata Alex. Allora. Soffermiamoci su un dettaglio. La ragazza c'è bella, dei bei capelli lucenti, c'è la banana, c'è la maglietta un po' strapellata. Vedi come io l'ho raccontata! Qual è il problema? Che c'è anche questo filtro fatto a crocette con delle scritte. Le scritte strane. Ok. Avete presente... T'ha scritto GKavala? No, avete presente... Oddio ho capito, non è un filtro, ho capito. Quei siti che vendono immagini stock e per non farle rubare ci mettono un watermark a crocette sopra. Non era un filtro! Alex, c'è letteralmente il nome del sito? C'è scritto sopra l'immagine. È un filtro! Non è un filtro, deficiente. Non ci credo! C'è il nome del sito, se tu cerchi su internet sicuramente... Ma poi c'è anche, c'è scritto, mio Dio, ma non sei neanche preoccupata di girarti un link diverso? Perché nell'URL c'è letteralmente scritto una ragazza che lecca una banana e altre cazzate. Quindi, cioè, scusa, ti pare che uno carica la propria foto scrivendo una ragazza che lecca una banana? Se possiamo vedere bene, possiamo notare che ci sono i bei capelli lucenti, c'è la maglietta strappata, c'è la banana, ma il watermark si vede benissimo. Quello, Alex, non è un filtro, è un watermark. Serve per non permetterti di rubare la foto. Cioè, se tu vuoi usare quella foto, devi pagare quello che l'ha creata. Hai capito? E la rapi non l'ha pagata, a quanto pare! La rapi ti dice, non l'ha pagata, l'ha cercata, te l'ha messa lì. Infatti, in chat stavano dicendo, ma la rapi non era mora o al massimo si tingeva i capelli di rosso? E vedi, c'erano arrivati pure loro, lui invece che ci crede! Secondo me è un filtro. Alex, non è un filtro! A me dispiace, cioè, però sei veramente un demente. Cioè, come può sì? Ma non è che non ti vuole nessuno, però ci credi, è una foto di stock! Dai, non ci cascano neanche le cinquantenni ormai a ste robe! Eh, quando l'ho visto, eh, mi ha detto che era un filtro! Non ti sembrava fatta troppo bene sta foto? Ma c'è pure tipo... Lo sfondo bianco! Cioè, si vede che è una modella e che la foto è finta! Era tutto sistemato benissimo! Ocunque ti posso dire che il mio disegno era comunque abbastanza curato, eh! Infatti! E' di brutto! Secondo me, ci sei rimasto un po' male? Tu eri anche convinto di poterla ricattare di rimando? Perché lei ti ricatta a te, quindi tu pensavi di poter ricattare lei Utilizzando la tua foto sua che avevi Buonanotte a tutti! Guardatevi due video di oggi, mi raccomando! Un baciones! E Lion out!